buongiorno e bentornati sul canale senza fissa dimora oggi escursione di oggi una grande classica qui a Lecchese la via normale invernale a Grignone visto dopo le prime nevicate il Grignone è tutto imbiancato e non potevo certo perdermi un'occasione del genere visto che finalmente è uscito un po di sole e quindi c'è da approfittarne è un po tardino perché sono già le 10 di mattina ma oggi me la sono presa proprio con calma relax totale e quindi via si parte vediamo se ci sarà da ravanare ma penso di no perché tantissime persone oggi staranno facendo questa escursione quindi sarà già tutta tracciata e quindi via si parte ciao grazie colori autunnali sono passati giusto due anni dall'ultima volta che ho fatto questa escursione era proprio questo periodo neve abbondante e vedremo come sarà oggi ed è stato anche il primo video di senza fissa dimora quindi una bella ricorrenza per celebrarlo ecco qua 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 ecco mi sono arrivato al rifugio antonietta al piallera attraversata bassa qua siamo all'alpe covo 1301 metri eccomi che sono a 1500 più o meno inizia la neve ancora poca sul sentiero in realtà non c'è niente perché un po' si è sciolta un po' passata la gente però inizia qualcosina e qua dietro l'albero vediamo se riesco ecco non so se si vede ma quella punta là in fondo che brilla è il bivacco ferrario della grignetta e invece qua davanti il grignone che però non si vede molto bene coperta le nuvole un po' dietro stupenda la valsassina eccoci raga che ora si è iniziata la parte invernale alpina neve tanta neve che si sta sciogliendo quindi è proprio fango fango e neve questo è il nostro bel grignone si vede la croce anche se non credo che dalla telecamera si riesca a vedere bene e c'è una marea di gente c'è proprio la processione sul muro del pianto tutti che piangono tutti che piangono andiamo ecco in fondo la grignetta panorama stupendo ed ecco che sono arrivato all'ultimo point prima del muro del pianto località comolli bivacco riva girani adesso un piccolo break acqua e frutta secca e poi si parte col turbo sul super il muro del pianto a sta a sta la cima a sta la cumbre eccomi che sono nel pieno nel cuore del muro del pianto il famosissimo muro del pianto del grignone per la sua normale invernale alla vetta è venuto fuori il sole fa un caldo pazzesco sto sudando come come nunca e via ormai la neve si sta sciogliendo proprio ucciacca però ho dovuto mettere rampone perché sennò scivolavo tantissimo ecco che sono arrivato al traguardo la fine del muro del pianto con le belle bandierine tibetane e adesso inizia la cresta tutta la cresta fino ad arrivare al rifugio Brioski e la vetta qui qua c'è l'altro versante si sale dal Cainallo con il lago di Lecco si è aperto il cielo è venuto fuori una giornata stupenda buonissimo eccoci che ormai ci siamo quasi quella è la croce e dietro il rifugio Brioski è sempre una bella sfacchinata comunque il grignone invernale questo è il panorama è il panorama Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti